Siamo a bordo di un TAF di Trenord, extra in Italia e questo è uno spazio, diciamo, definito di prima classe dove sui servizi che lo prevedono, ossia i Regio Express questa viene venduta come prima classe qui siamo sul suburbano quindi non fa alcuna differenza però potete vedere lo schifo di questo spazio qui c'è una persona che potrebbe pagare un biglietto più alto per viaggiare su dei sedili identici a quegli altri per di più ridotti così con il pavimento in queste condizioni alla faccia della sanificazione dei convogli per la quale giustamente si sono fatte un sacco di soppressioni perché i convogli andranno sanificati in qualche modo quindi le soppressioni sono doppico bene, questa è come Trenord è diventata